Le parole chiave sono giovani, internazionalizzazione, la robotica, l'alta tecnologia e prevalentemente il confronto, il confronto dell'idea è quello che oggi è praticamente diretto, non attraverso internet, ma diretto guardandosi negli occhi e discutendo. Così il professore Leonardo Mastropasqua, presidente della società oftalmologi universitarie e direttore d'ECNAT, il Centro Nazionale di Alta Tecnologia in Oftalmologia, parlando della diciannovesima edizione del Corso Nazionale SOU, in programma da oggi al 1 ottobre a Chieti, nel campus universitario dell'Adannunzio. Oltre 500 studiosi oculisti italiani ed europei si confronteranno su innovativi temi quali la digitalizzazione, la telemedicina, l'applicazione delle tecnologie di intelligenza artificiale in diagnosi e terapia, la chirurgia robotica. Si tratta di un momento chiave per l'alta formazione dei medici specializzanti, ai quali viene offerta la possibilità di discutere e sperimentare le tecniche di chirurgia robotica più innovative. Ci sono tutti i professori universitari italiani, poi abbiamo il professor Linonda Cruz, che è il capo della retina del più grosso ospedale d'Europa di Londra, del Mursfield, che viene qui, che le diamo la medal lecture. Tutte le scuole italiane si confrontano, ma attraverso gli allievi. La nostra società oftalmologica universitaria ha scommesso sui giovani e sulla internazionalizzazione. Con la globalizzazione non esiste più un discorso nazionale, ma internazionale. Quindi c'è un confronto di idee internazionali e a questo punto questo è lo scopo di questo incontro, che durerà tre, quattro giorni, perché finiamo pure domenica, che c'è l'appendice di un giorno, dove ci incontravano tutti i professori ordinari italiani. Poi c'è la gara delle scuole, c'è la cup, si vincerà la coppa dell'ogni anno, c'è questa, della scuola più brava. Verso quali sfide si avvia l'oftalmologia del futuro? Robotica, intelligenza artificiale e alta tecnologia. L'occhio ha un vantaggio che è trasparente. E sento trasparente, capisce, lei è come se avessimo il torace trasparente. Vedremo i polmoni, vedremo tutto, ma non lo vediamo perché abbiamo bisogno dei raggi per poterlo vedere, delle raggi X. Invece, nell'occhio abbiamo la possibilità di vedere, grazie alla trasparenza, di vedere l'albero mascolare, tutto e risalire anche a problematiche del corpo. Quindi possiamo applicare delle tecnologie, i laser, i primi laser sono passati dai militari all'occhio per la medicina. I primi a usare il laser sono stati gli oculisti, 50 anni fa. Oggi abbiamo un'evoluzione tecnologica pazzesca, quindi siamo poi indirizzati su questo da sempre come scuola in Italia e in Europa e quindi è proprio il campo nostro sul quale ci confrontiamo.